Vi presento lo storybook tratto dal libro Che rabbia di Mireille Dallansè, edito Babalibri. Roberto ha passato una bruttissima giornata. Guardate che faccia arrabbiata che ha. Ehi tu, levati quelle scarpe, gli dice papà. Ecco fatto! Ne lancia una, ne lancia due, gli risponde Roberto. Per cena ci sono gli spinaci. Piuttosto non mangio, esclama Roberto. Sali in camera tua, gli dice papà. E scendi solo quando ti sarai calmato. Non ci penso neanche, risponde Roberto. E lassù, nella sua camera, sente una cosa terribile che sale. Sale, sale, fino a quando... Esce fuori all'improvviso. Ma cos'è questa cosa? Cos'è Filippo? È la rabbia. È la rabbia? Sì. Ciao, gli dice la cosa. Cosa vuoi che facciamo? Tutto quello che vuoi, risponde Roberto. Bene, dice la cosa. Cominciamo da lì. E hop, via! La coperta vola via, con tutti i cuscini. Crac! Il comodino. Ah, il comodino... Ah, che ho fatto! Stacca tu il comodino. Bang! La lampada. Stacca tutto, Pippo. Adesso tocca agli scaffali, con tutti i libri. Wow! Poi la cosa si avvicina al baule dei giocattoli. Aspetta! Quello no, dice Roberto. Hai capito? Smettila! Sciocco! Questo l'ho modificato rispetto alla traduzione originale. Sì. Sciocco! Il mio camion preferito. Eccolo qua, il suo camion preferito. Che cosa ti ha fatto, quel brutto coso? Gli ha fatto male. Bestione. Bisogna mettere tutto a posto. Metti tutto a posto tu, Pippo. Non ti preoccupare. Il cuscino, qui. Ti aggiusto io. E poi... A questo va qui. Sì. A questo va qui. A questo va qui. Sì. Questo è il mappamondo. Adesso ho fatto... I colori. Il libro mettiamolo qui. La coperta la mettiamo sul letto. Sì. È vero? Oh, la mia lampada. Aspetta, ti rimetto a posto. E il mio cuscino tutto ammaccato. E il mio libro preferito. Ti ha tutto sciopato, poverino. Ah. Ecco, così va meglio. Metti qua il libro e qua il camion che ci stanno meglio. Bravissimo. Ma potevano andare dove volevano. Ah, sei qui tu. Arrotolala che deve andare via nella scatola. Devi farla piccola. Falla piccola prima. Vieni qui che ti prendo. Forza, su. Dentro la scatola. Mettiamo via la rabbia, Pippo, vero? Sì. Dentro la scatola. E non muoverti più. Papà? È rimasto un po' di dolce? Sarà rimasto un po' di dolce per Roberto? Sì? Sì, vedrai Roberto che è rimasto il dolce. Ciao a tutti. Pippo, saluta con la tua manina che sei stato il mio aiutante. Anche Roberto vi saluta. Ancora la labia. Adesso la facciamo. Adesso la facciamo. Ciao bambini!